La criminalità sta sferrando un nuovo attacco alla convivenza civile della città, un attacco fatto di paura e terrore che tutti hanno il dovere di respingere. Le parole sono quelle del sindaco di Foggia, Franco Landella, che commenta così l'impressionante sequenza di danneggiamenti operati negli ultimi giorni nei confronti di diversi esercizi commerciali della città. Rimane gli attentati dinamitardi, poi le saracinesche dei negozi sfondate con le automobili, una nuova tecnica dietro la quale potrebbe nascondersi un preciso piano per operare intimidazioni e avanzare richieste di carattere estorsivo. Una vera e propria sfida è la legalità, quella lanciata dalla malavita foggiana, che non prevede soste neanche nel weekend di Pasqua, quando gli attacchi ai commercianti si sono addirittura incrementati. Otto nel giro di sole 48 ore e che hanno avuto come obiettivi bar e pizzerie dal centro. Ai titolari degli esercizi commerciali colpiti, il sindaco ha espresso la solidarietà di tutta l'amministrazione comunale, annunciando un nuovo tavolo tecnico, in programma già nella giornata di oggi, con il prefetto Maria Tirone e con il questore Pier Nicola Silvis. Un richiamo all'unità istituzionale, che è anche un appello e non il primo, ai parlamentari del territorio affinché mantengano alta l'attenzione su un'emergenza che non accenna a placarsi. Dopo l'ultimo incontro avvenuto mesi fa con il ministro dell'interno Angelino Alfano, ha sottolineato il primo cittadino, poco o nulla è cambiato nell'attenzione del governo nazionale nei confronti di questa situazione allarmante. Nonostante le rassicurazioni arrivate da Roma, la città resta in attesa di misure straordinarie, sia da un punto di vista simbolico, sia sul piano appropriamento operativo. Perché, come conclude il sindaco, Foggia non può vincere questa battaglia senza un sostegno speciale da parte dello Stato.